Aiuto! Siamo nella casa della nonna più pazza di tutto internet, porca puzzarda! Oh no, cosa sto facendo? Adesso voi potrete pensare, ma che caspita sta facendo questo pazzo scatenato che non è altro. Beh, io sto facendo queste cose, vediamo se riesco a fare qualcosa però, perché è già difficile aprire la porta già da qua. Ah, forse così si fa? Così? Eh sì sì sì, bisogna stare premuto. Praticamente è uscito il nuovo Grani 3 e io lo sto giocando da computer, perché purtroppo non ho un Android o un iPhone. E quindi, però, ovviamente, adesso continueremo... Dai, no, non mi dire, cosa è successo? Si è aperto? Si è aperto? Mi sa che si è aperto. Ok, perfetto. Adesso posso alzarmi e andare. Forza! Let's go. Ora dobbiamo stare super... Ok, siamo tranquilli. Avete sentito l'urro che ho tirato? È perfettamente normale, mi sono cagato addosso in una maniera allucinante. E non era affatto recitato, infatti penso si sia visto che non... Non... Insomma, è stato molto terribile come cosa, non lo voglio più fare, basta, cioè per favore. Io con questi giochi non so perché ma mi spavento, sono molto suggestionabile da questo punto di vista. Quindi, forza, vai! Apriti, oh creatura, perché devo vedere che cosa c'è dentro queste porte. Io non l'ho mai giocato, non l'ho nemmeno mai visto su YouTube e quindi ho molta paura di vedere quello che succederà e di capire cosa potrebbe succedere, perché nel senso potrebbe succedere di qualsiasi cosa, ragazzi. Cioè, veramente, potrebbe succedere ogni tipo di cosa, veramente. Potremmo morire da un momento all'altro, quindi dobbiamo stare super attenti e dobbiamo cercare di fare il prima possibile a capire come uscire da questa casa maledetta della nonna. Perché immagino che voi avrete già visto... Però stavolta non me l'hai più fatta, brutta... No, invece me l'ha fatta e come? Forse devo scappare. Cosa devo fare? Allora, datemi dei consigli per favore nei commenti perché questo gioco è veramente difficile, anche perché è nuovo, io non l'ho mai giocato, davvero. Siamo già al secondo giorno e sono già morto, praticamente, una volta. Quindi è completamente complicato, ragazzi, cioè nel senso io non sto capendo assolutamente più niente. Però dai, speriamo che questa cosa si riesca ad aprire, giusto? No, devo riaprire così, porca miseria. È un casino ogni volta, quindi... E come faccio io? Guardate che è impossibile, praticamente, no? Vabbè, però... Dai, pian piano si fa, si può capire tutto quanto. Io l'altro granny, l'altro granny, avevo anche fatto dei video vecchi di l'altro granny. Facevano abbastanza schifo. Eh, però non me l'hai fatta, brutta schifosa, per non dire qualcos'altro, perché vorrei dire tante cose. Tante belle cose vorrei dire, ma non potete capire. Scusa, me lo fai prendere, per favore. Ok, grazie mille. Ok, guardate che complicato comunque giocare al PC, perché non è una cosa normale. Oh no, cosa devo fare? Devo usare il lockpick? Cosa? Ah, sì, 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 devo usare... Ok, perfetto. Stiamo capendo pian piano! Cercate di restare con me, perché io mi cago addosso, se no, altrimenti, ragazzi. Cioè, io urlo male. Allora, qua ci sono sia... Cioè, sia la nonna che il nonno, qua dentro, in questa casa. L'ho messo. E l'ho messo anche a difficoltà semplice, perché per ora non vorrei strafare. Anzi, forse è normale. No, non mi ricordo. Forse è semplice, semplice. Mi sembra di semplice. Non vorrei strafare, perché altrimenti poi dopo, chissà cosa potrebbe succedere. Potrei morire da un momento all'altro. Ma forse, io mi sovviene un dubbio adesso, in questo momento. Non è che nella modalità semplice non ci sono il nonno e la nonna? Domanda delle domande. Perché, se è così, è un po' noioso. Poi non lo so, io intanto in questa casa... Ah, scappa! Quella pazza maledetta ha voluto uccidermi, ma non ce l'ha fatta. No, comunque ogni volta sti infarti no, cioè nel senso. Ok, va bene una volta, va bene una seconda volta, ma... Per carità divina, non ogni santa volta. Cioè nel senso, scusatemi, e se no mi volete male, mi volete ammazzare. Cioè tipo, mi ammazzano male poi dopo, no? Cioè, non voglio che mi ammazzino male, ok? Vabbè, qua sto trovando cose, vediamo un attimo cosa c'è qui. Vabbè, devo dire che non è che ci siano molto, eh, in effetti. Quindi, boh, magari riusciamo a trovare qualcosa, chi lo sa. Ah! Scappa! No, 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 raga, raga, c'è la nonna pazza dietro di me che vuole uccidermi. Vuole farmi fuori. Vuole bastonarmi. Vuole usare il suo lungo bastone per entrarmi nel sedere. Eh, c'è pure il nonno che quello là ce l'ha. Mi sa che è la mia fine, vero? È la mia fine, è la mia fine. Ciao, signori, come state? Siete brutti entrambi, comunque. Fate proprio cagare, se posso permettermi, eh. Poi dopo magari vi offendete, ma siete brutti. Prima era partita una pubblicità terribile, ma proprio terribile, che io non consiglierei mai a nessuno. Cioè, nel senso, veramente, è successo un... Basta, no, per favore. No, 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 non mi uccidere, bastarda. Non ho detto niente, vero? Voi non avete sentito niente. No, perché questa qua, questa pazza di una scatenata schifosa, continua a spuntarmi dietro. E io non voce, nel senso, è orribile, perché ogni volta cerca di uccidermi. Ma io... Eh, attenzione, dice il nonno pazzo, maledetto. Voglio uccidermi, mi vuole far fuori, mi vuole... No, signora, granni, lei è simpatica come un cuccolo. Per non dire qualcos'altro. Però sa cosa, io adesso mi infilerò proprio in questo posto qua. E lei farà finta di niente, rientrerò qui dentro. Non si dovrà preoccupare, perché io mi comporterò da bravo bambino. Sì, però non è che mi devi spacciare, cioè non è che mi devi dare i... Te, te, cose, cioè... Dai, vai via! Ma stupida, non mi fai nemmeno parlare, non riesco a parlare, perché ho troppa paura, ragazzi, ho troppa paura. Mi devo concentrare di più, sennò poi dopo muovi, mi cago addosso. E urlo di nuovo, come è già successo. Siamo già al giorno 4, è impossibile, sono solo su Easy, non ho fatto niente. Ma come caspita si fa, non so giocare. Ragazzi, aiutatemi per favore, sono disperato. Disperatemi a... cioè nel senso... non disperatemi, nel senso... Aiutatemi a togliere la disperazione, perché io non sto capendo assolutamente niente. Aiutatemi, se ne capite qualcosa di questo gioco, aiutatemi, perché io voglio capire, voglio giocare ancora di più. Mi piace troppo fare questa cosa, mi piace troppo questo gioco. È uno dei miei giochi che è stato... È un po' la mia infanzia che, caspita, è successo, ma... Figlia di una schifosa, guarda, per non dire qualcos'altro, perché... Mi... mi... cioè... si meriterebbero tante di quelle bastonate, che non posso nemmeno dirvi. Ma bastonate proprio sul sedere, secondo me. Perché secondo me non... i suoi genitori, di questi qua, non gliene hanno date abbastanza. Chiaramente sto scherzando, ovviamente, cioè nel senso... Mi dissocio, però questi qua, pazzi, psicopatici, hanno lasciato la porta aperta. Attenzione! Lì c'era la nonna, e dobbiamo stare anche attenti al nonno, perché il nonno potrebbe venire da un momento all'altro. E mi dissocio da ciò che ho detto, ma... Insomma, possiamo capire ciò che io intendevo. Io intendevo che potrebbe venire qua e tipo uccidermi, farmi fuori. Guardate la luna, l'hanno aggiornata, è più simile alla realtà. Vediamo un attimo, che cos'è questa roba? Posso prenderla e ho preso... No, vabbè, ma sta qua. Ma mi vogliono... Cioè, secondo me mi vogliono uccidere. Cioè, secondo me... Smettila, tu, puzzana, schifosa, scurreggiona. No, via, 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 via. Raga, raga, aiuto, aiuto, aiuto. Sono finito, cioè se... Ma mi hanno ammazzato, davvero. Questo è l'ultimo giorno, e c'è il mio cane che sta abbaiano. Ma cosa abbaia, Snowy? Siamo al giorno 5, l'ultimo giorno. Io sono salito al piano secondo. Il secondo piano, quello bellissimo, quello... Cioè, bellissimo, insomma, più o meno. Però praticamente io adesso posso andare a scovare tutti i segreti dei nonni pazzi, psicopatici, malati di mente, urlatori, ammazzatori in realtà, perché solo quello che fanno praticamente mi ammazzano. Anche se mi muovo un attimo, non lo so. Cioè, veramente, sono fuori di testa questi qua. Cioè, spero per voi che non abbiate dei nonni così. Mi auguro di no. Io, per fortuna, grazie al cielo, non ce li ho così, per carità divina. Cioè, non ce li avrei mai così. Cioè, nel senso, sarei troppo, troppo, troppo triste, ovviamente. Sarei anche morto a questo punto se ce li avessi così. Però, invece, no, sono gentili, mi sono molto gentili. Allora... Ah, basta. No, vabbè, ma sta qua vuole ucc... Cioè, sta qua vuole farmi fuori, davvero. Cioè, mi vuole... Cioè, veramente, ma non nel gioco, proprio nella realtà. Cioè, è diverso. Perché se io adesso prendo e mi viene un infarto, cioè, davvero. Cioè, non si fa questa cosa, però, eh. Scusami, ah. Porca puzzona! Porca puzzona, vai via, schifosa, bastarda. No, 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 non ho detto niente. Io scherzavo, signora. No, si... Non se la prenda con me. Io essere un bravo voglione. Eh, ok. Non so perché ho detto questa cosa, ma... Chiedo scusa a tutti quanti. Ma sto cercando di viaggiare, di vivere. Insomma, qua sopra, sopra il tetto. Non so dove, raga, dove sto andando. Cioè, ci rendiamo conto dove sto adesso, in questo momento. Sento l'anno, una pazza che ride. Aiuto, raga. E poi, guardate lì in lontananza. Non c'è un beato, c'è po' di niente. Anzi, forse voi riuscite a vedere qualcosa, ma io no. Credo. In realtà, non lo so nemmeno io. Come fa... Sì, qua devi venire, pazza, che non sei altro. Ma se io saltassi qua sul tetto? Muoio? Non muoio, vivo, vivo. Oh yeah! Per fortuna che è vivo. Cos'è sto roba? Un corvo mannaro. E cosa devo fare se io lo picchio? Ah! Ma come ti permetti, schifoso? Adesso mi sa che chiama la nonna sto qua. Vuoi vedere? Se si chiama la nonna, io lo odio, lo odio. Cioè, l'ho voluto toccare per salutarlo. Per fargli le coccole, lui cosa fa? Mi becca. Ma come si permette? Ma che devo chiamare la Santa Marianna? Ma che devo... Ma che devo farti fuori, ma con le mie mani ti prendo e ti... Ok, scusate, non lo faccio mai più. Cioè, mi rendo conto che a volte potrei sembrare cringe. Leggermente. Oppure potrei sembrare fuori di testa da neuro. Però, insomma, ognuno ha le sue idee, no? Dopotutto. Cosa sembro? Fuori di testa o da neuro? Io, secondo me, tutte e due. Però, vabbè. Oh, guarda. Sono finito dentro casa, di nuovo. Come se non bastasse. Già i nonni che sono fuori di testa. Ah, boh, non lo so. Io non riesco a capire niente. Per favore, datemi dei consigli nei commenti. Perché io, davvero, qua non ci capisco. Un beato c'è per otto di niente. Davvero. Però mi sono troppo contento che ci sia questo nuovo gioco. Perché sarà una nuova avventura insieme. Sarà una nuova avventura horror, però, insieme. E cercheremo di sopravvivere. Ti prego, vai via, nonna. Vai via. Lasciami stare, per favore. Lasciami. Fattene scurreggione. No, no, vabbè, dai. Ma vai a cagare. E adesso vediamo il filmato finale. Che io non l'ho visto. Voglio vedere il filmato finale. Quello che ci uccide. Dove ci uccidono entrambi. Vediamo. Allora, dove siamo in una macchina? Mi stanno guardando in modo terribile. Intanto sentite il cane in sottofondo. Ma, insomma, è terribile. Ah, no, non mi dire che vogliono. No, non mi dire, non mi dire questa cosa, sai. Vattene via. No, no. Quella brucia fa male, fa male. E niente, mi esplos... Grazie mille. Vi ringrazio, signori. Ma sta ridendo quella dama che cazzo. Ma avete visto? Ma è impazzita. Ma ha fatto tipo... Ma c'è fuori di testa, comunque. Cioè, io ve l'ho detto. Questa qua sta fuori. E dovrebbe andare a farsi curare da un bravo dottore. Però, vabbè, insomma. Chiunque fa le sue cose, non lo so. Se magari vuole andare a farsi curare dal ginecologo, piuttosto che dello psichiatra, è un altro con... Mi dissocio. Ti prende pure a te. Vabbè. A lui spara, comunque. Vabbè, niente. Spero che questo video vi sia piaciuto. Per favore, commentate. Su cosa ne pensate di questa cosa. E commentate anche su... Dei consigli. Insomma, datemi dei consigli, per favore. Perché non ne capisco niente. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!